Tragedia sfiorata a largo delle coste di Palermo. A due miglia da Capo Zafferano, questa mattina una nave ha perso in mare 10 tir. Si tratta di un'imbarcazione della compagna Grimaldi, sulla quale erano a bordo 7 persone, 6 autisti e il capitano, rimasti illesi. Secondo una prima ricostruzione, questa mattina intorno alle 8, il maltempo avrebbe generato onde alte 7 metri che hanno inclinato l'imbarcazione. I tir a bordo trasportavano materiale edile e derrate alimentari. Sulla nave giunta al porto di Palermo, la Capitaneria sta effettuando i dovuti controlli per ricostruire nel dettaglio la dinamica dell'incidente.